Anno scorso furono chiamati a realizzare la locandina della manifestazione, bellissima e divenuta già un pezzo da collezione, ma quest'anno gli studenti del liceo artistico a Polloni sono chiamati a dare ancora di più dagli organizzatori. La realizzazione del trofeo che verrà dato a tutti i partecipanti della maratona che dalle colline di barchi porta gli atleti fino al livello del mare a Fano, regalando un'esperienza che difficilmente si può scordare, non a caso la Colle Marathon è denominata la Maratona dei Valori. Devo dire che il lavoro svolto è stato molto interessante, soprattutto il lavoro dei ragazzi che si sono impegnati e hanno trovato una soluzione eccezionale per la medaglia. Una medaglia che varcherà anche l'oceano perché il sudalizio con Chattanooga si stringe ancora più forte. Sì, veramente, la medaglia sappiamo il simbolo della maratona, si arriva con una bella medaglia quindi veramente siamo molto contenti e soddisfatti da una medaglia realizzata con le scuole quindi è un grande valore, un valore alla Maratona dei Valori. Ma prima di varcare l'oceano questa medaglia ha fatto un lungo percorso, partito dagli studenti della quarta A della sezione di arti figurative che hanno elaborato, pensato e realizzato bozzetti campioni della medaglia che verrà realizzata poi in vetro e verrà messa al collo degli atleti una volta tagliato il traguardo. La scelta delle realizzazioni, decisamente difficile visto l'alto livello dei progetti espressi da tutti gli studenti, è ricaduta su quello di Chaima El Audi che prendendo spunto dai contenuti della corsa ha stilizzato una clessidra nei colori della maratona, il verde e il blu su uno scudo rotondo per ricordare proprio le medaglie. C'è stata la bellezza di dover affrontare un materiale come il vetro che non è solitamente utilizzato per ovvi motivi all'interno di un istituto come il nostro e poi c'è stata sicuramente grande collaborazione con chi vive e con chi ha creato la Colle Marathon e quindi questo ha fatto sì che ci fossero poi dei valori da dover poi oggettivare in un prodotto che è la cosa più difficile. It's a holly holly day